Samsung presenta Mobile World Congress 2017, il nuovo Tab Book, questa è la versione da 12 pollici, vi ho fatto anche vedere prima quella da 10.6, display da 2160x1440 pixel, quindi possibilità di riprodurre contenuti in 4K, molto bello dal punto di vista estetico, adesso lo separo dalla sua tastiera d'ocche, come avete visto è retroilluminata, alimentata qua dai suoi Pogo Pin, permette di tenerlo in più regolazioni, è davvero forte la trazione magnetica che c'è in queste tastiere, davvero si sente a un certo punto la tastiera che è in più. Tira qua la parte posteriore del tablet, io adesso comunque la separo, la tastiera è una corsa da 1.5 mm, molto stabile al centro, ve la faccio un attimo vedere, questa è la versione bianca ma ne esiste anche una nera, tasti ben distanziati, saranno 2.1 mm e qualcosa, touchpad con due tasti separati, ma ad ogni modo torno sul tablet, tablet che usa processori Kaby Lake, qui dentro ci sono i modelli da 15 Watt, qua sopra ci sono le ventoline di ariazione, quindi non è falless, però lo spessore è davvero contenuto, sembra un tablet diciamo Android, è anche più sottile della versione con Core M che è invece falless. Poi ci sono due altoparlanti laterali, vedete questo, qua c'è il lettore microSD per espandere la memoria interna, questo è l'altro altoparlante, questi sono due USB 3.1 non Thunderbolt, la batteria all'interno è una 39WH più grande rispetto a quella da 30 del modello a 10.6 pollici, questo è un Super AMOLED ed è raro trovare tablet Windows con questi display di questa qualità, vi assicuro che si vede parecchio dal vivo, adesso lo stiamo utilizzando, vedete posso far vedere anche le regolazioni di luminosità, 8 giga di RAM, 256 di memoria SSD volendo, sarà una SSD SATA, spero sia una PCI Express, non lo so, qualità costruttiva davvero al top e poi supporto S-Pen, perché dentro c'è un digitalizzatore Wacom con 4096 livelli di pressione, questa è la sua penna, il software c'è anche il Samsung Flow che permette di integrare i tablet Windows con le suite Android e quindi fare login da una parte, condividere i dati, avere il tethering abilitato e via dicendo, più le funzionalità di Microsoft Ink che vedete qua, io con la penna posso fare un po' di tutto, questa è una penna diciamo professionale, spessore di 0.7 mm, un po' più grande rispetto a quella di prima che si usava nei notch, nonostante sia elettromagnetica, quindi passiva, questo per facilitare meglio la scrittura, si riesce davvero ad utilizzare in maniera molto molto seria, i processori all'interno permettono di, questo ha un i5 ad esempio, lo vediamo subito, anzi se riesco ad andare qua nelle impostazioni, sistema, sì questo ha un i5 7000 2U con 8 giga di RAM in questa versione, tra l'altro Samsung li vende tutti insieme, cioè vende il tablet, faccio vedere anzi la tastiera nera, vende il tablet, vende la tastiera e vende la penna tutti integrati, quello che manca in realtà è un alloggio per la penna, mentre la versione Android ha il selettore qua per metterla, questo no, vabbè ad ogni modo ci torneremo, i prezzi ancora non li conosciamo, dovrebbe arrivare in commercio più avanti, ci torneremo appunto, vi lasceremo maggiori informazioni, come al solito continuate a seguirci qua da Mobile World Congress 2017 perché siamo appena agli inizi. Grazie a tutti.